Allora, come vedete, questa immagine è una cosa incredibile. Quante persone in questa stanza si sorprendono ancora di essere sopravvissuti all'adolescenza nonostante l'aver fatto tante altre cose, molte cose stupide e pericolose nell'adolescenza? Oltre a me, io sono sopravvissuto. Quanti altri è un miracolo, che siamo riusciti a sopravvivere all'adolescenza e questa è un po' la storia di un adolescente che ha fatto una cosa stupida e non è sopravvissuto. Il suo nome è Icaros. Icaro è come il resto di tutti noi, ha 16 anni e vuole volare.